Ciao ragazzi, in questa puntata creeremo una semplice applicazione guestbook per Google App Engine scritta in Python 2.7 a partire dall'esempio sul sito di Google Developers innanzitutto dovrei assicurarmi di avere la versione Python 2.7 a questo punto dovrei andare a scaricarmi l'SDK di Google App Engine per Python è disponibile per Windows, Mac OS, Linux ed altri sistemi operativi io uso Mac OS quindi mi scarico la versione per Mac OS una volta scaricato e installato dovrei trovare la cartella con tutti i file dell'SDK nel mio caso su User Local App Engine quindi parto da creazione di una cartella vuota la chiamo ovviamente guestbook la apro nel mio editor preferito e creo il primo file chiamato app.yml quindi application guestbook guestbook è la nostra app ID version 1 è la versione della nostra applicazione perché potremmo averne più di uno si può utilizzare anche i caratteri alphanomerici quindi 1, 2, 1, 2 e così via e quello che non si può usare è i punti nella stringa quindi questo non sarebbe valido runtime è l'ambiente in cui girerà la nostra applicazione che è Python 2.7 API version è una cosa interna e deve essere sempre uno in questo momento thread save può avere valore true oppure false che indica all'infrastruttura App Engine come elaborare le richieste metodo dei link dove potrete approfondire certi commenti come ad esempio la questione di thread save avremo un solo handler delle nostre richieste in questo caso è molto semplice quindi qualsiasi path sia farlo girare alla nostra guestbook app quindi io creo questo file guestbook.py quindi quello che avremo qui a un certo punto è la nostra app la definizione della nostra applicazione quindi questo vuol dire in sostanza il percorso dello script ho il package, il modulo, appunto l'app bene quindi abbiamo la nostra app in cui viene detto tutti i percorsi a partire dal root vengono girati al nostro request handler guestbook che non abbiamo ancora ok quindi ora abbiamo una super semplice applicazione hello world proviamo ora a lanciarlo in locale viene avviato con dev app server dell'sdk infatti se volete lanciarlo con l'opzione meno h vedrete tutte le opzioni possibili da poter specificare al development server infatti noi utilizzeremo un paio di opzioni subito uno è high replication e l'altro use sqlite ok vediamo cosa succede running application guestbook on port 8080 ok vediamo cosa succede ed eccolo hello world la prossima cosa che vorrei fare io è che nella nostra applicazione entrano solo gli utenti già logati si può fare molto semplice utilizzando users api con questo servizio io posso fare get current user potrei avere l'utente che sta accedendo alla nostra applicazione in quel momento if user is not known o hello a quell'utente lì altrimenti facciamo redirect ad un login url login url si può creare molto semplice con users get create login url questo ci fa creare un percorso speciale in cui l'utente potrà loggarsi con il suo account google quello che possiamo specificare noi è dove far tornare l'utente dopo aver loggato vediamo cosa succede facciamo refresh ecco mi sono ridiretto alla simulazione della pagina login infatti c'è il parametro continuo localhost 8080 sarebbe il nostro self request uri è solo una simulazione in locale quindi posso scrivere qualsiasi email fa benissimo faccio il login ed eccomi helloalex.example.com quindi noi ora sappiamo se un utente è loggato oppure no e pronti proprio a fare una form dove un utente potrà scrivere un messaggio e salvare da qualche parte al posto di hello scriviamo proprio un html sempre user nickname ok helloalex.example e qui abbiamo una text area con il bottoncino sign guestbook proviamo ciao quello che succede è il browser ha fatto post sempre al root all'oculost 8080 però quello che è successo è che il nostro request handler non sa elaborare queste richieste del tipo post lo dobbiamo fare con il metodo post va a avere content della nostra form della nostra text area e intanto facciamo hai scritto è quello che ha scritto quello che ha scritto l'utente pro for refresh con lo stesso parametro ed eccomi qua infatti hai scritto ciao ok proviamo di nuovo ciao mondo eccomi qua hai scritto ciao mondo ora noi in questo momento rispondiamo solo con hai scritto e replichiamo il contenuto però non salviamo da nessuna parte per salvare un data store a noi serve un modello una classe che sarebbe la nostra entity sul data store utilizzeremo il modulo ndb che sarebbe la nuova versione del modulo db che è disponibile nel google app engine ext avremo solo tre campi message autore e la data in cui una greeting cioè un messaggio è stato salvato sul data store ok bene abbiamo quindi questo il nostro modello e nel metodo post cerchiamo di salvare il contenuto quello che ha scritto l'utente nel data store quello che manca a noi è author e la data sarà sarà aggiunta in automatico quindi quello che serve a noi è semplicemente l'autore no? facciamo user get current user author user nickname ok quindi abbiamo guardato questo oggetto ma non è ancora salvato per salvarlo dobbiamo fare grid put e qui al posto di riapplicare il messaggio della richiesta facciamo stampiamo grid message ok quindi vediamo cosa succede ciao di nuovo ed è cominciato di nuovo quindi non è cambiato nulla però possiamo controllarlo sulla console admin la console admin sarebbe disponibile se vi ricordate quando abbiamo appena lanciato il development server c'era un'altra riga che diceva admin console is available at localhost ah admin andiamo a vedere cosa c'è in questo URL infatti abbiamo qui l'entity kind greeting nella lista abbiamo una riga un'entity salvata con il ciao di nuovo il messaggio autore è l'utente con cui mi sono loggato e la data la data in cui questo greeting è stato salvato se vogliamo provare di nuovo ciao mondo ok vediamo nella development console list entities infatti ora ne abbiamo due ciao di nuovo e ciao mondo ok perfetto il prossimo passo sarebbe visualizzare quei messaggi sempre in questa pagina lo possiamo fare semplicemente facendo una query sul data store quindi greetings è il nostro modello greeting query e facciamo fetch al massimo di 100 entities il problema ora se andiamo a modificare questa stringa è abbastanza difficile da mantenere quindi quello che volevo utilizzare io è al posto di questa stringa embeddata nel codice utilizzare template per cui mi creo questa sottocartella chiamata templates in cui creiamo il template guestbook.html con il contenuto molto simile a quello che abbiamo embeddato nel codice a differenza che qui abbiamo un loop un ciclo 4g in greetings in cui stampiamo ogni messaggio nella lista well bene ora abbiamo questo template però in qualche maniera dobbiamo fare il rendering di questo template cioè generare html quindi al posto di questo response right quello che vorrei fare io una cosa del tipo render guestbook.html greetings greetings nickname user nickname ok quindi questi parametri queste variabili greetings e nickname saranno visibili direttamente nel template infatti così si stampa una variabile come nickname greetings sarebbe la lista per cui qui si può fare un ciclo sul greetings ok come facciamo fare il rendering il rendering si può fare molto semplice con il il modulo extra di webhub2 webhub2 extras chiamato jinja2 io ho mai sentito come si pronuncia jinja2 quindi io dico semplicemente jinja ok bene il metodo render self template e valore per il template quindi qui facciamo jinja2 get jinja2 render template template e i valori questo risulta in html dopo di che facciamo self response su write html naturalmente il webhub2 questo jinja2 di webhub extras è solo un wrapper quindi il pacchetto vero di jinja2 dobbiamo importarlo tramite specificandolo nel html nelle librerie libraries jinja2 e la versione l'ultima sarebbe 2.6 ok quindi facciamo la query di 100 risultati massimo e facciamo il render del nostro template guestbook passandoli la nostra lista di greetings e il nickname dell'utente che è logata in quel momento siccome abbiamo abbiamo due due greetings in questo momento sul datastore in teoria se io faccio il refresh dobbiamo vedere dobbiamo vedere le due infatti eccoli qua ciao di nuovo ciao mondo l'ultima cosa qui che vorrei fare è quando al momento della submit della form non voglio più visualizzare hai scritto il messaggio ma vorrei semplicemente fare redirect alla root della nostra applicazione quindi prova redirect ed eccoci qua ha fatto redirect però per qualche motivo noi non vediamo ancora il nuovo messaggio se io invece faccio il refresh ed eccolo qui prova redirect quello che abbiamo osservato adesso è la simulazione del high replication store potrete approfondire la cosa del high replication data store tramite il link che saranno legati al video ok cosa manca questa fantastica guestbook mancherebbero un po' di stile giusto per cui quello che faccio io mi creo è una cartella static in cui metto un guestbook css vuoto ok e quindi io vorrei poter poter farlo cioè referenziarlo dal mio template con l'ingresso stylesheet hrf static guestbook però dobbiamo specificare all'app engine che questa cartella static è una cartella che contiene dei nostri asset come javascript css immagini quindi dobbiamo aggiungere alla sezione handlers url static cioè tutto quello che inizia con static e dobbiamo specificare che questa è static dire static quindi questo si riferisce all'url cioè questo qui barra static e invece static dir riferisce alla cartella al percorso relativo alla nostra cartella dell'app e quindi static e in questo caso il percorso static e la cartella static coincide però potrebbero essere diversi e quindi facciamo background color green vediamo che succede ok non è molto stilizzato però però era giusto per fare un esempio quindi quello che potrei fare io al posto di grain mettiamo un colore così e magari facciamo font size 14 pixel c16 e bottone del submit molto grande e lo facciamo anche un po' staccato dalla form ok quindi mi copio questa parte la incollo qui nel guestbook css faccio refresh infatti viene caricato prima di caricare la nostra applicazione sui server di production di google dobbiamo prima creare questa applicazione andando all'indirizzo app engine .google.com create application ok dobbiamo dare un identificativo alla nostra applicazione io vado con JDL Italy ed eccolo qui disponibile quindi per intenderci questo application identifier sarà esattamente quello che è specificato nell'app HTML nella nella riga application ok diamo un titolo JDL Italy samples ok lasciamo tutto di default e facciamo create application intanto che lo crea io mi copio questo application identifier e lo sostituisco con la nostra guestbook da notare che il il nostro app id eccolo qui JDL Italy farà parte del hostname cioè ora la nostra applicazione sarà raggiungibile al JDL versione della nostra applicazione però comunque il fatto che l'app id fa parte dell'host quindi tutti gli app id devono essere univaci ok ora come facciamo a caricare la nostra applicazione è molto semplice utilizzando l'altro script chiamato app si oggi se volete lanciare questo script con il parametro meno h anche qui ci sono un sacco di parametri basterebbe fare update ecco qui è partito lo script application JDL Italy version 1 versione è quella versione lì che l'abbiamo specificato qui quindi io potrei metterne più di una è partita l'aggiornamento dell'applicazione caricamento dell'applicazione sui server di google questa riga vuol dire che abbiamo caricato la nostra applicazione con successo ed eccolo qui completed quindi io tornando sulla mia console app engine andando nella sezione versions ora vedo qui versione 1 cioè sarebbe esattamente questa bene quindi semplicemente andando a questo mio indirizzo JDL Italy .appspot.com dovrei vedere esattamente la stessa applicazione che avevo visto ed eccola qui ciao mondo la prova del 9 ed eccola qui bene spero vi vi è piaciuto e alla prossima per la prossima attra la prossima Grazie a tutti